Benvenuti su Televive Il tema di oggi l'ho intitolato Sei pronto? Però prima di cominciare col tema ti voglio raccontare una storia Una storia di due ragazzi due amici cresciuti insieme cresciuti nello stesso palazzo sulle stesse strade due amici che hanno gli stessi problemi due amici hanno un problema non hanno futuro non sanno cosa fanno a scuola dicono che non sono adatti per la scuola nessuno gli vuole dare un posto di lavoro per questo un ragazzo di questi due Fabrizio cerca di fare carriera con il calcio lui vede che lui ha questo talento questo talento di giocare a pallone incomincia ad allenarsi già da piccolo e diventa sempre più forte già i scout e le altre squadre lo vedono e lo stanno osservando mentre il suo amico Alessandro non ha questa fortuna di avere questo talento ancora il suo talento non l'ha scoperto questo talento ancora non gli è fatto stato vedere a scuola non va bene ha cambiato un sacco di lavori ora non c'è più posto da qualche parte nel lavoro c'è la crisi non sa più cosa deve fare e questo ragazzo incomincia a entrare nei giri brutti incomincia a spacciare droga a farsi soldi facili a farsi soldi sporchi a farsi soldi disonesti bene Fabrizio gli ha parlato tante volte gli ha detto dai incomincia pure tu a fare qualcosa che ha senso nella tua vita cerca pure tu un tipo di sport prova con il calcio ma esci da questo giro brutto esci da questo giro sporco ma Alessandro vede che con i soldi della droga può fare i soldi può fare carriera lui già a 18 anni è uno più ricchi della strada però ha tanti pericoli lui non è l'unico spacciatore nel suo nel suo posto in questa strada ma ci sono due ci sono due spacciatori che gli fanno concorrenza due spacciatori che sono sono molto famosi e Alessandro gli ha tolto la maggior parte della clientela questi due spacciatori vedono che questo ragazzo deve scomparire decidono una notte di ucciderlo un giorno Fabrizio si alza si alza e vuole andare fuori di prima mattina a fare ginnastica ad allenasti per il suo futuro quanto esce gli arriva la notizia Alessandro è stato ucciso lui va a cercare chi l'ha ucciso viene questa notizia che i spacciatori questi due spacciatori famosi l'hanno ucciso lui pieno di rabbia si va a comprare una pistola alle due di notte da solo va da questi spacciatori suona la porta dice che gli manca qualcosa vuole qualche pillola lo fanno entrare lui pieno di rabbia esce fuori la pistola e si vendica uccide questi due spacciatori bene come va avanti con Fabrizio non lo sappiamo la storia finisce qui è una storia vera però delle storie simili le vediamo quasi ogni giorno sui telegiornali qualcuno uccide un altro qualcuno si vendica queste storie sono molto conosciute oggi purtroppo in un'intervista poi più tardi che hanno fatto a Fabrizio gli hanno chiesto perché tu l'hai fatto eri così vicino al tuo sogno perché hai rovinato tutto e Fabrizio dice questa frase con cui voglio incominciare questo tema questa frase di cosa tratta questo nostro tema oggi questa meditazione lui dice io l'ho fatto perché sapevo che Alessandro avrebbe fatto la stessa cosa per me molto interessante lui l'ha fatto solo perché sapeva che il suo migliore amico avrebbe fatto la stessa cosa per lui pur non ascoltandolo pur non accettando quello che ha detto il suo amico ma sapevo che faceva la stessa cosa bene non so voi ma per me è morto qualcuno questo qualcuno era una persona molto importante è vissuto duemila anni fa noi lo leggiamo in Giovanni 3.16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiun che creda in lui non perisca ma abbia vita eterna sapete Gesù Cristo è morto per noi con una consapevolezza è morto per noi per prima come ci scritto qua affinché nessuno perisca ma abbia vita eterna lui ci voleva regalare la vita per questo è morto ma lui è morto pure con la consapevolezza che noi abbiamo fatto la stessa cosa per lui lui è morto con la speranza che noi saremmo morti pure per lui vedete Paolo scrive in una sua epistola scrive io muoio ogni giorno questo non vuol dire che ogni giorno lui si suicida ma che ogni giorno il suo io muore ogni giorno lui si decide di lavorare per Cristo e non di seguire le sue mete ma di fare tutto quello che Dio gli dice bene gli apostoli da allora tipo Pietro hanno fatto la stessa decisione leggiamo in Matteo 26.35 e Pietro risponde a Gesù quant'anche dovessi morire con te non ti rinegherò e lo stesso ti dissero pure tutti i discepoli vedete tutti i discepoli hanno detto noi vogliamo morire per te se tu ce lo dici noi moriamo per te ma non ti rinegheremo sappiamo purtroppo che dopo la prima chance Pietro l'ha reddicato tre volte e questo Gesù l'aveva predetto già dopo questa frase ma è molto interessante che il primo istinto di Pietro e dei discepoli dopo che Gesù gli ha detto che lui per un tempo non ci sarà più che sarà crocifisso il primo istinto di Pietro la prima reazione era io morirò con te bene io mi auguro che noi tutti abbiamo questa consapevolezza che Gesù Cristo è morto per noi ma che come Pietro possiamo dire tu sei morto per me anche io voglio morire per te anche io voglio morire per te ma morire ogni giorno lasciare morire ogni giorno il mio io lasciare morire ogni giorno questo mio egoismo la mia meta il mio futuro Gesù scrive e dice chi non odia madre e padre non mi può seguire non mi può amare vedete non vuol dire che dobbiamo odiare la nostra famiglia ma che dobbiamo mettere a Dio al primo posto ma vuol dire anche che se la nostra famiglia si mette a mezzo alla nostra relazione con Dio la dobbiamo incominciare a odiare però Gesù scrive pure ama i tuoi nemici allora cosa dobbiamo fare li dobbiamo amare o li dobbiamo odiare ora vedete c'è questa frase non ascoltare nessuno ma essere amici con tutti bene questa frase vuol dire che dobbiamo amare tutti dobbiamo amare tutti ma ascoltare solo Dio mettere Dio al primo posto come Fabrizio voleva mettere normalmente il calcio al primo posto ma la sua amicizia con Alessandro era molto più importante ed è questo che dovrebbe essere pure la nostra relazione con Gesù Cristo dovremmo essere noi a morire per Cristo ogni giorno Gesù l'ha fatto una volta noi lo dobbiamo fare ogni giorno se tu vuoi fare pure questa decisione ti posso solo dire di incominciare a studiare la Bibbia incominciare a pregare pregare a Dio e chiedergli guidami tu tu sei morto per me voglio morire anche io ora per te affinché questo possa entrare nei nostri cuori e affinché non solo pratichiamo ma lo possiamo pure praticare che Dio sia con noi Amen